Il tuo collega Colombo ha appena detto, dichiarato, che il Cesena ha meritato di vincere sia per i nostri demeriti, riferendosi ovviamente all'Arzignano, che anche per i meriti appunto del Cavalluccio, specialmente nel primo tempo. Direi che è una chiave giusta, corretta. No, sapevamo che partita andavamo a affrontare sicuramente perché questa è una squadra che, specialmente fuori casa e anche in casa, dava sempre fastidio a tutti perché è una squadra aggressiva, una squadra che ti lascia giocare poco, ha voglia anche di giocare a calcio, quindi sapevamo. Noi siamo stati bravi nel primo tempo a creare molte volte superiorità, a cercare le nostre giocate, abbiamo trovato il gol. Poi il mister Colombo ha cambiato modulo, si è messo uno contro uno come a specchio, lì le difficoltà anche del campo, di giocare di prima in avanti, a trovare subito Borello. Nel secondo tempo invece era partita molto più, secondo me, dove potevamo chiuderla con Valeri, non siamo riusciti e quindi abbiamo sofferto un po', però io devo dire bravi ragazzi perché hanno fatto una grande gara e questa vittoria ci stava tutta dopo la sconfitta interna contro il Fano.